E allora di nuovo in diretta con 56 live, vi avevamo promesso che ci saremmo occupati della notizia del mese, dell'anno, forse addirittura del secolo, insomma la rinuncia al soglio pontificio di Papa Benedetto XVI, divenuta ufficiale da ieri sera alle ore 20, anche con la chiusura del portone del Palazzo Apostolico, la presenza di Papa Emerito, ormai così dobbiamo chiamarlo Benedetto XVI nella residenza di Castel Gandolfo, almeno per qualche giorno, per qualche tempo, aspettando che sia pronta poi la nuova residenza all'interno delle mura vaticane. È il caso di fare il punto sulla storia che attraversa, la vicenda che attraversa la Chiesa Cattolica, anche proiettandoci al futuro, al conclave che si aprirà nei prossimi giorni, lo facciamo grazie a due preziosi contributi, qui di due ospiti molto graditi, saluto allora Don Gaetano Saracino, parroco del Santissimo Redentore, buonasera, grazie di essere tornato qui a Tele Roma 56, un gradito ritorno anche per Piero Schiavazzi, vaticanista di Limes e Affitton Post, Schiavazzi buonasera. A voi. E allora che pagina è questa per la storia della Chiesa Cattolica? Si sono espressi e sprecati aggettivi di ogni tipo, insomma evidentemente non ci sono precedenti nell'era moderna e ieri c'è stato anche l'impatto ulteriore quello delle immagini, delle parole che ancora di più hanno sottolineato la gravità del momento e anche l'unicità dello stesso. È una pagina di ragione e non una pagina di passione. Ieri mattina ai Cardinari le ultime parole, Benedetto XVI, Papa Emerito ha detto dobbiamo amare, amiamo la Chiesa con tutti quanti perché ha la ragione e la passione della nostra vita. Se fosse stato Wojtyla avrebbe detto è la passione e la ragione. Ecco nella precedenza data a questi due termini noi leggiamo il tramonto del pontificato di due papi. Wojtyla è andato fino alla fine perché l'ha vissuta prima con passione e poi con ragione. Ci sta tutto anche nel suo essere imbevuto di cultura polacca, millenarista e invece il tedesco Ratzinger ha valutato prima con ragione e dopo con passione che quando la universalità della Chiesa si comincia a chiamare globalizzazione sulle spalle pesa molto di più di quando era un concetto teologico importante ma astratto quello della universalità in un altro contesto storico. Adesso che si chiama globalizzazione ha un peso che le spalle di un solo uomo possono sopportare soltanto se è a tempo. Che cosa dicevano i contestatori, i riformatori del papato? Pesa troppo sulle spalle di un solo uomo rivediamoli una gestione collegiale. Da Ratzinger questo mai potevano aspettarselo però al tempo stesso da persona concreta vedeva il problema e quindi l'unica soluzione che un papa conservatore potesse trovare era quella di mettere un tempo al pontificato ma senza toccare il potere assoluto del ministero petrino concentrato nelle mani di una sola persona. Questa secondo me è la lettura e la spiegazione di quello che è accaduto. Don Gaetano ha detto Papa Benedetto XVI nell'accommiatarsi anche dai fideli, d'ora in poi sarò un semplice pellegrino, ecco è più sola la Chiesa Cattolica nel senso più negativo del termine, senza una guida, questo rischierà anche di avere ripercussioni future importanti? No, credo sia ricca perché ne abbiamo due di papi, uno sarà Papa Emerito, l'altro sarà Papa Effettivo, Pontefice di Santa Romana Chiesa. Ovviamente il suo essere pellegrino si riferiva alla sua terza stagione proprio dell'età, ha rivelato una grande umanità che è questo quello che è passato molto anche ai tanti fedeli che dall'11 di febbraio hanno cominciato a chiedersi come mai, perché e quant'altro. Man mano che questo tempo passava e anche le ultime scadenze ce lo hanno fatto vedere sempre più vicino, oseremmo dire, abbiamo avuto proprio l'impressione di avere davanti un Papa molto umano, quindi una realtà che è diventata anche molto accessibile laddove sembrava una persona distante e per contenuti tante volte perché ti obbligava a pensare, a riflettere, non era mai di impatto Benedetto XVI. Di fatto in queste ultime ore con parole anche molto semplici e abbraccio più di quanto ha già lui osato, ma che non era mai quasi mai stato sottolineato. Abbraccio ha fatto capire, sono con voi e sono anche io, mi avvio in questa fase della vita che tocca a tutte le persone di questo mondo e io gli do questo significato. Ieri mentre diceva quelle parole ero con due dei miei confratelli più grandi di me e dicevo un bel messaggio per la terza età, anche la nostra terza età che non credete insomma non sia un problema, no? E il Pontefice ha in qualche modo interpretato anche questa stagione della vita. Interessante il suo riferirsi alla Chiesa costantemente in questi ultimi giorni, in tutti quanti i suoi messaggi e anche ieri mattina mi colpiva tra le tante cose anche quello di dire ai signori cardinali questa Chiesa che è con ragione e passione, che è la nostra ragione e passione che abbiamo visto ieri, no? Che abbiamo visto anche ieri in piazza il giorno del saluto di tutta Roma e di tutta quanta l'umanità che ha potuto e stata presente in piazza ha fatto vedere la sua multietnicità, la sua multiappartenenza, il suo essere ormai diffusa su tutta la terra. Ecco quella è la Chiesa verso la quale rivolgiamo le nostre attenzioni. Quali sono le principali domande che vi vengono rivolte in parrocchia? Immagino che i fedeli siano stati, come tutti noi, colti in contropiede da una decisione che ha del clamoroso. E mo, secondo te, perché? Che succede? Tutte quante cose che evidentemente al fedele anche che vive la vita sua ordinata e ordinaria affiorano. Il tanto, non detto proprio così, però il non capisco ma mi adeguo avrà avuto i suoi motivi e anche la semplicità di chi dice è vecchio, lo si vede, ma l'hai visto come dimagrito? Abbiamo tutti in sagrestia una foto del sommo pontefice e lo si vede, insomma, francamente, non solo più invecchiato ma anche, insomma, un po' più spento anche in quella che è la sua fisiologia, no? Esteriore. Le persone da questo e a questo sono molto attente e, insomma, lo hanno anche notato. Tuttavia la domanda ricorrente di adesso è cosa sarà del conclave, cosa accadrà nel conclave. Questo lo sa lo Spirito Santo che ha già scelto e a noi non lo ha ancora comunicato. E adesso anche ne potremo parlare di questo. Schiavazzi è d'accordo quando nella vulgata, comunque, insomma, si tende a sottolineare il gesto di Benedetto XVI come il riscatto finale, insomma, un Papa controverso, per certi versi, o comunque non trascinatore di folle, mettiamola così, che però grazie a questo guizzo è riuscito a guadagnare in pochi giorni una popolarità che magari per i precedenti otto anni non aveva conquistato. Io ieri ho titolato il mio editoriale su Luffington, è stato accolto come un Papa del passato, si congeda come un Papa del futuro. Nel senso che apre le porte di una nuova strada, ancora tutta da percorrere, alla Chiesa, dove la stessa istituzione si va a rimodellare. Nel discorso di ieri mattina, cioè lui è arrivato da grande reazionario e chiudiamo da rivoluzionario, il discorso di ieri mattina è in termini di diritto pubblico rivoluzionario, cioè lui va a toccare la costituzione materiale della Chiesa inserendo una figura nuova, quella del Papa Emerito, che non c'era mai stata. Ed è tanto nuovo questo terreno scivoloso su cui si sta inoltrando e ci stiamo appresso a lui inoltrando, che i protagonisti stessi inciampano. Una settimana fa è stato chiesto a padre Lombardi, nel totonome, non nel totonomine, quello adesso è cominciato, nel totonome, ma si potrebbe chiamare affatto una giornalista pontefice emerito. E padre Lombardi non si sbilancia mai ha risposto, guardate, io non mi spingo mai a immaginare, ma se c'è una cosa che vi posso assicurare, tutto fuorché pontefice emerito. Lo stesso portavoce del Papa ha fatto questa gaffa clamorosa e poi si è ritrovato tre giorni dopo a dover annunciare che il titolo scelto era proprio quello. Perché? Perché ha aggiunto, e qui lo può capire il parroco che mi siede accanto, che nell'aggettivo emerito, ha detto padre Lombardi che il vescovo conserva quando lascia una diocesi, quando un vescovo si dimette ai sensi dell'articolo del codice dito canonico dei 75 anni voluto da Paolo VI, il vescovo rimane emerito e mantiene un legame teologico di forma e di sostanza con la diocesi che è la sua sposa. Questa è teologia. E anche diritto canonico, no? E padre Lombardi ha aggiunto, nel caso di un Papa, per carità, perché siccome il mistero del Papa, Di Pietro, deve stare tutto nelle mani di una sola persona per volta, introduciamo un elemento di ambiguità che potrebbe ingenerare confusioni e forse anche contraddizioni. Invece il Papa ha fatto proprio quello, a significare che lui ha inserito un anello nuovo, vivente, che prima non c'era, nella successione apostolica, nella catena della continuità, che lega il successore di Pietro a tutti coloro che l'hanno preceduto. La differenza qual è? Che quelli che l'hanno preceduto, nelle grotte vaticane, giacciono. Mentre in questo caso, sempre in continuità, ecco perché rimane nel recinto, questo Papa contadino comincia, nella immagine che ci ha dimostrato, inizia il pontificato il 19 aprile del 2005 con un'immagine contadina, la vigna, e finisce con l'immagine del recinto. Ma al di là di questo, il recinto è il recinto costituzionale, è la forma della Chiesa, che lui va a innovare con una figura nuova, che sarà in continuità e quindi sarà, dobbiamo immaginare, forse oggi nella sua discrezione, per non sconvolgere troppo i cardinali della gerarchia e della Chiesa, forse sarà davvero e starà davvero soltanto in preghiera. Ma potenzialmente, in quella figura di Papa Emerito c'è un consigliere del nuovo pontifice, per questa continuità apostolica, questo anello nuovo che si va a aggiungere. Ed ecco perché, dico, ci troviamo, ma lui l'ha detto, la Chiesa è un organismo vivo che si evolve, ha detto ieri. E quindi considera anche... O non l'hanno voluto prendere sul... o non hanno capito, o non hanno voluto o hanno voluto non capire, perché la Chiesa è sconvolta, si dice che un gruppo di cardinali si stia già organizzando nelle assemblee generali per chiedere, per porre come condizione elettorale, al nuovo Papa, che duri fino all'ultimo. Perché è ovvio, quando ci sono queste transizioni epocali, anche quando Paolo VI introdusse la norma per cui i vescovi a 75 anni, molti si scandalizzarono, proprio perché c'è questo principio che il vescovo sposa. Ma allora io mi dovrei scandalizzare quando la Chiesa sposta e promuove i vescovi ai diocesi più importanti e mi dovrei vedere quante mogli ha questo vescovo. Ecco, allora se poi andassimo ad applicare queste associazioni e queste metafore, perché non sempre poi gli spostamenti dei vescovi avvengono, a volte avvengono anche perché come uno vuole un ministero più grosso al governo, senza portafoglio passa al portafoglio. Vi interrompo perché vi voglio portare idealmente a Castel Gandolfo, dove oggi è stata la collega Cinzia Sant'Angeli, che ci racconta un po' l'atmosfera e il clima che si vive alle porte di Roma con questa presenza, certamente inedita, di un Papa Emerito. Per noi è sempre un'emozione. Come saranno questi mesi che il Papa trascorrerà qua? Come sarà il vostro modo di vivere? Le cambieranno i piedi. In punta di piedi, perché sappiamo che qui abbiamo scelto di venire qua, per noi è una cosa bellissima, non lo so. Io so solo che c'è un buco allo stomaco. Siete contenti che è qui? E' certo, anche perché lui lo ama Castel Gandolfo, è certo che siamo contenti. Noi ormai siamo abituati, i castellanni veri, gli scivola tutto dalle spalle perché siamo abituati a vedere tutta la gente di tutto il mondo. All'indomani dall'ultimo saluto di Benedetto XVI dal balcone della Residenza Estiva di Castel Gandolfo, il Papa Emerito nel suo ritiro non è solo. L'affetto della gente lo accompagnerà in questi mesi in attesa di trasferirsi nel convento Mater Ecclesia in Vaticano. La comunità della cittadina dei Castelli Romani è abituata alla presenza del Santo Padre, ma questa volta è diverso. Qui lo considerano tutti loro concittadino, tutti lo consideriamo nostro concittadino e siamo proprio contenti, lavoreremo qui molto più tempo e non tre mesi solo, due o tre mesi come è stato detto. Però certo lui oramai ha la sua strada, si è fatto pellegrino, ha messo a nudo la ricchezza della sua umanità ieri, che ha conquistato tutti, abbiamo saputo, credenti e non credenti. Ecco, prima quando fu eletto Papa disse sono un umile servitore, lavoratore nella vigna del Signore. Adesso ha detto sono un pellegrino. che inizia questo pellegrinaggio verso la terra promessa, diciamo così, è veramente bello. Lei ieri l'ha accolto, l'ha accompagnato? Sì, l'ho accolto all'eliporto e mi è sembrato che appena che ha messo piede lì si sentisse un po' meglio, diciamo, nel senso che soprattutto penso dopo le ore 20, in quel momento forse il Papa ha detto ecco, inizio questo mio pellegrinaggio. Il calore, il sentimento, ma soprattutto il rispetto dei castellani nei confronti della scelta del Papa Emerito è percepibile come si arriva nel cuore del paese, Piazza Libertà, dove c'è l'ingresso della residenza. Immerso in un oasi di pace e tranquillità, Ratzinger non a caso ha scelto Castel Gandolfo per trascorrere questo periodo di isolamento che dedicherà allo studio e alla preghiera. Probabilmente non si vedrà mai in giro, certo è che la comunità di Castel Gandolfo è pronta a prendersi cura di lui. La situazione è molto difficile e penso che il Santo Padre abbia preso la decisione giusta per tutte le cose che sono successe. Tutti i papi da secoli hanno trascorso i periodi di riposo e qui in questo luogo proprio perché è particolarmente bello. Io ho visto che era molto sereno, sereno e alleggerito. Noi qui che lo conosciamo, lo abbiamo avvicinato, l'avevamo visto in questi ultimi due anni specialmente che era molto affaticato. Riteniamo che abbia fatto un gesto che doveva fare. Inizialmente noi siamo rimasti un po' sconvolti da questo suo gesto, però poi è la volontà del Signore. Intanto oggi, secondo quanto riferito da padre Federico Lombardi, la prima giornata di Benedetto XVI da Papa Emerito è trascorsa tra la preghiera, la riflessione e la lettura dei messaggi che ha ricevuto. E allora questa l'accoglienza, l'abbraccio di Castel Gandolfo. Don Gaetano, leggo quanto scritto oggi in un passaggio da Vincenzo Cerami sul Messaggero. Scrive Cerami, il coraggioso e provocatorio gesto di Papa Ratzinger riporta teatralmente in primo piano l'immagine di una chiesa che vuole mostrarsi agli occhi del mondo nella sua essenza autentica, sacra, come un momento di mediazione tra uomo e trascendenza. Non sono casuali i richiami del Papa, la figura di Cristo vissuto in mezzo agli uomini e dagli uomini crocifisso che nel momento di morire invoca il Signore di perdonare i suoi assassini che non sanno quello che fanno. È stato il sentimento della Pietas a far sì che Benedetto XVI si sia spogliato degli abiti papali con lo stesso spirito del giovane Francesco allorché si denudò davanti al suo vescovo. Si sente di sottolineare, sottoscrivere queste parole di Cerami? Beh sì, nel senso che è noto che nella storia della chiesa al di là delle parole sono stati dei gesti quelli che hanno portato la stessa a rinnovarsi, a rinnovarsi dal di dentro in maniera del tutto autentica. Avevamo appunto tutti quanti un po' abbiamo fatto fatica ad adattarci a Benedetto XVI che ci obbligava alla parola e alla riflessione. Quando Giovanni Paolo II mediava molto la parola con i gesti e con la sua teatralità. Questo Papa aveva invece messo un po' tutto quanto sul pensiero, sulla riflessione, cose che lo hanno anche reso nobile soprattutto nel mondo anche laico, nel mondo dell'intelligenza. Insomma una persona accolta che va anche studiata e lo sarà ancora per molto tempo. Ci ha lasciato con un tweet e se voi pensate ha fatto capire che era molto più aggiornato di quando noi non credevamo, l'introduzione delle sue dimissioni, sono 140 caratteri, cari cardinali vi ho convocati qui non solo per le tre beatificazioni ma anche per annunciarvi informazioni importanti per la vita della chiesa. Appunto è un tweet vero e proprio e poi lo ha scavalcato dicendo adesso più la parola il gesto vale più di ogni altra parola. Questo è accaduto, io credo che da questo anche la chiesa dovrà ripartire e non potrà fare a meno. Se voi vedete la liturgia, cosa alla quale anche lui ci ha tenuto, è tutta quanta gestualità, gesti e parole però gesti che hanno dei significati molto precisi e che non sono soltanto esteriorità ma alla radice portano il mistero di quello che poi noi annunciamo anche con la parola. E tutto quanto questo crediamo per davvero che è la cosa che i cardinali anche terranno presente in tutto quanto quello che accadrà ma credo sia anche quello che il mondo ci chiede. Il mondo chiede delle scelte in un certo senso alla chiesa che non sono di tipo dottrinale chiede alla chiesa delle scelte che sono delle cose da mettere anche in atto in pratica quindi dei gesti da compiere che il collega ha ben colto e sottolineato. Insomma prima ci diceva Don Gaetano Schiavazzi che i fedeli vanno in chiesa e chiedono e mo' alla romana che succede? Allora rivoltiamola verso il conclave e mo' che succede? Perché ci si interroga anche già delle diverse correnti che stanno già insomma lavorando sulla futura elezione anche in termini di iter procedurale quando comincia il conclave l'11 marzo come si dice davvero i favoriti insomma un papa nero no dice la chiesa è pronta ma non sarebbe pronto il mondo un papa terzomondista allora si guarda alla realtà latinoamericana? Guardate c'è un disegno adesso non voglio sostituirmi al prete ma c'è un disegno quaresimale in questo cammino che ci sta portando al conclave. L'11 febbraio mancano due giorni al mercoledì delle ceneri quindi il tempo che il mondo si organizzi e poi quella scena iniziale della imposizione delle ceneri da parte di Benedetto sul capo di una curia riottosa dilaniata al suo interno e quindi questo gesto penitenziale quasi questo non proporre ma imporre alla curia e proporre al mondo il cammino verso l'elezione di un papa come una rigenerazione penitenziale di una chiesa di una curia che ne aveva fatte troppe nella prospettiva di far coincidere l'ingresso del nuovo papa in piazza San Pietro con l'ingresso di Cristo a Gerusalemme e la domenica delle palme questo è tutto Ratzinger c'è tutto perché su è un immaginario imbevuto di cultura biblico teologica quindi ci sta tutto e poco è stato sottolineato quando alcuni di noi l'hanno scritto ci siamo sentiti dire sempre in sala stampa dal portavoce dal vice portavoce non ci abbiamo pensato ma ci voglia moltissimo capire l'11 febbraio si dimette e il 13 è mercoledì delle ceneri e poi quella sua insistenza immediata già nell'imporre le ceneri nel dire al tempo stesso avete deturpato il volto di Cristo inizia un percorso e un cammino penitenziale questo dal punto di vista cosa si delinea quindi i cardinali andranno a anticipare a lunedì 11 è possibile l'altra volta le congregazioni generali cioè queste assemblee dei porporati sono durate una settimana sappiamo che cominciano lunedì mattina il giorno 4 dopodiché inizia il conclave personalmente non credo che il conclave si risolva in due giorni come nel caso lo state mostrando il 18 cominciò il conclave il 19 sono le immagini che vediamo aprile 2005 sono già le immagini dell'elezione nella fumata del pomeriggio io non credo che questa volta si risolva tutto in due giorni e quindi se poi il Papa venisse eletto verso il mercoledì o giovedì della settimana non ci sarebbero i tempi tecnici organizzativi perché in quel caso giungono a Roma delegazioni al più alto livello di capo dello stato di primo ministro di ministro degli esteri da tutto il mondo per inaugurare il pontificato la domenica andremo al 24 che è la domenica delle palme mi sembra che ci sia una regia liturgica di benedetto poi siccome volete anche il toto Papa io sono convinto credo e poi quindi non potrò più mettere in questo studio essendo smentito dai fatti che sia la volta di un Papa extraeuropeo gli extraeuropei lo reclamano dopo due Papi europei e tanti italiani l'Italia ha una sola chance con il Cardinale Gianfranco Ravasi che è l'unico Papa extraeuropeo di carta di identità italiana ma di testa extraeuropeo cioè è l'unico che si affaccerebbe la domenica parlando ai fratelli maggiori ebraici nella lingua ebraica moderna e antica che possiede perfettamente e al miliardo e 300 milioni di musulmani in arabo indiretta nella lingua del Corano questo sarebbe certamente oltre a tutte le lingue moderne un segno profetico del nostro tempo Tolto Ravasi io credo che si salta direttamente non fuori dall'Italia ma addirittura fuori dall'Europa dove esiste una geopolitica dello Spirito Santo a mio avviso che va a incuneare nel nido della serpe che va a incuneare nel nido della serpe invece l'uovo virtuoso della risurrezione è accaduto nel 78 chi immaginava che lo Spirito Santo per me che sono credente vedete faccio poi tanto il disincantato ma poi da credente dico anche se con linguaggio giornalistico andò a annidare Voitiva oltre Cortina disgregando quel mondo Ratzinger è stato un Papa da Querelle lui se fosse di studio nel 700 avrebbe duettato con Voltaire di Fioretto poi ha provato a fare il polemista professore universitario anche da Papa e a Ratisbona ne abbiamo visto le conseguenze quando ha provato a dire che con il cristianesimo anche in termini razionali il pensiero religioso raggiunge il vertice e quindi Maometto rappresenta un'involuzione abbiamo visto che cosa poi dopo è accaduto nel 2006 il discorso di Ratisbona però comunque lui era un segno di contraddizione nell'Occidente relativista e quindi c'era questo stesso principio geopolitico abbiamo questa volta secondo me due opzioni o si investe in America Latina dove la Chiesa subisce l'insidia delle Sette e voi che seguite molto il calcio immaginate essendo la prima uscita pubblica del Papa Nuovo quella del Maracanà alla giornata mondiale della gioventù di luglio se fosse un Papa brasileiro giocherebbe in casa l'altro però che più risponde al criterio geopolitico è il filippino Tagle di madre cinese quindi nelle Filippine una testa di ponte però perché di madre cinese quindi mezzo cinese è come a metà sono ancora i rapporti tra Roma incompiuti e incompleti più incompiuti che incompleti tra l'altro è anche giovane, molto giovane è giovane ma nessuno è più spaventato dopo che il pontificato Ratzinger ha introdotto il pontificato a tempo quindi nessuno è più spaventato Ratzinger fece una battuta e chiude appena eletto disse 78 anni l'avete fatto apposta perché il mio sarà un papato breve tutti erano terrorizzati dai 27 anni di Wojtyla estremamente terrorizzati allora grazie a Dio l'introduzione del papato a tempo perché poi c'è lo Spirito Santo ma spesso nella Cappella Sistina viene frenato dalle ambizioni degli uomini che tendono a eleggere un Papa e la Chiesa era diventata gerontocratica questo era un grosso problema è vero c'è un papato a tempo lo ha inaugurato Papa Ratzinger e Don Gaetano però lo stesso Papa Ratzinger ha detto di aspettarsi un Papa forte giovane e santo anche lui ha sottolineato dunque l'importanza anche della carta d'identità ieri nel saluto dei cardinali ci si attendeva magari un gesto, un'investitura si è cercato di cogliere qualcosa non c'è stato semplicemente ha detto Papa Benedetto rivolgendosi ai cardinali tra di voi c'è il prossimo Papa allora come dobbiamo leggere questa pagina? giornalisticamente verrebbe da dire che ieri non erano presenti tutti i cardinali che andranno in conclave quindi se ha detto questo ed era assente qualcuno che sta arrivando è escluso si rischia di assottigliare il numero dei candidati già sarebbe una strada ma non credo sia questa la strada perché è da percorrere è tutto da decidere per davvero e sarà davvero il conclave che dirà chi sarà il nuovo Papa condivido pienamente quando il collega appunto diceva e credo proprio si possa anche pensare questo in termini proprio non solo di buonsenso ma anche di evangelizzazione cioè abbiamo l'80% di coloro che credono e seguono appunto il Vangelo che risiede nel sud del mondo in questo periodo, in questo tempo storico non è un dare una risposta e basta ma è anche un orientare la Chiesa a mettere proprio in campo tutte quante le sue forze ovunque esse siano perché questo è quello che abbiamo scelto questo è quello che noi siamo dei mandati non siamo delle persone che vivono di volontà dove lo spirito ci manda lì andiamo e questo è quello che potrà capitare credo che questo sia anche ciò che il mondo si attente perché la Cherello quanto è capitato finora ha avuto tutto come luogo la nostra bella Roma è un colle di Roma il Vaticano mentre la Chiesa per davvero vive lava i piedi, si piega entra nelle piaghe, nelle pieghe della storia come polvere ovunque nel mondo un Papa di questo genere non solo farebbe accendere i riflettori perché non è di quello che abbiamo bisogno però porterebbe sull'agenda anche proprio del mondo come risposta all'uomo di ogni latitudine ciò che serve per davvero all'uomo ciò che Benedetto ha cominciato a dire con le parole, con la ragione che tutto ciò che è autenticamente umano e anche cristiano e tutto ciò che è autenticamente cristiano non può non essere umano ecco questa umanità è arrivato il tempo di farla vedere e a questa umanità rispondere c'è un dato che sottolinea oggi ancora sul messaggero Lucetta Scaraffia ha scritto un pezzo in prima pagina in particolare vi leggo la sua chiusura in questi giorni una cosa salta agli occhi più di tutti in particolare dei corrispondenti stranieri la totale assenza di presenze femminili nelle riunioni che precedono il conclave le religiose costituiscono i due terzi dei religiosi e con il loro lavoro tengono in piedi la Chiesa ci sarà un modo conclude la Scaraffia per trovare spazio ai loro pareri alle loro richieste in questa delicata fase di preparazione insomma una chiesa che esclude le donne che sono un asse poi invece così portante le include come lei giustamente dice e come questo parroco conferma se non avessimo le nostre sante pie donne davvero le comunità cristiane avrebbero vita dura insomma e quindi un posto ce l'hanno ce l'hanno autenticamente all'interno della comunità cristiana e anche nel servizio ora si sta parlando appunto del successore di Pietro e lì c'è il mandato di nostro Signore conferito a degli uomini e in questo la Chiesa intende mantenersi ma benvenga e credo che non è conferendo chissà che tipo di di ruolo ulteriore o di investiture che potrà avvenire una promozione della donna c'è in tutto quello che essa è e rappresenta anche all'interno della comunità cristiana ieri lo diceva anche una collega di Al Jazeera come il mondo anche islamico sta dialogando molto bene con la Chiesa e sta capendo molto bene quel che sta accadendo nella Chiesa a differenza invece del mondo protestante che sta urtando un po' alcune scelte sta cercando di interpretare o svicolare anche alcune informazioni su quello che sta accadendo e questo probabilmente anche riguardo proprio ad alcune cose che riguarda il sacerdozio femminile e quant'altro che non sono state dibattute probabilmente la collega ha preso spunto anche da questa polemica che stava avvenendo Schiavazzi sulla questione femminile Io mi auguro e io non sono interessato a che la donna trovi posto nel preconclave quando ormai mancano 10-15 giorni auspico che la donna trovi spazio nei piani del prossimo Papa perché la Chiesa sconta un ritardo secolare è in debito nei confronti delle donne io mi spingo dove un parroco di Santa Romana Chiesa non può arrivare da laico la Chiesa sconta un ritardo e ha un debito secolare nei confronti delle donne che sono state istituzionalmente mortificate all'interno della Chiesa non vado sul piano della dottrina perché ci porterebbe lontano la questione del sacerdozio femminile resto sul piano istituzionale anche in posizioni del tutto accessibili senza toccare la dottrina alle donne le donne non ci sono per un diffuso e volgare spesso volgare maschilismo che impera dentro la Chiesa ci sono di casteri della curia romana che non hanno un profilo squisitamente pastorale perché poi l'aggettivo pastorale ti riporta al pastore e quindi al fatto che deve essere un ruolo sacerdotale il sacerdote è solo uomo ho detto non tocchiamo questo argomento perché lontano ci porterebbe ma ci sono delle posizioni apicali diversi ma perché non un direttore dell'osservatore romano donna cosa mai succederebbe e ancora il nunzio apostolico deve essere necessariamente prete perché non ha soltanto i rapporti con i governi ma sceglie anche i vescovi e quindi ci sto e l'osservatore permanente alle Nazioni Unite della Santa Sede che non sceglie i vescovi perché in quel ruolo così delicato e nevralgico non può andare in una donna ecco questi sarebbero i segni perché altrimenti se no non siamo credibili dico gerarchia ecclesiale quando si afferma che la donna non può per quel principio teologico secondo il quale il suo fondatore il Cristo ha voluto nel Collegio degli Apostoli questo se non seguiamo Dan Brown ha voluto solo nell'interpretazione del dipinto di Da Vinci ha voluto solo e soltanto uomini ma fuori da quella cornice di quel quadro in ruoli apicali che ci sono e tanti nella chiesa non le donne non le vediamo come portavoce e questa è riconducibile soltanto come portavoce donna ho fatto due esempi clamorosi e voi naturalmente mi state venendo appresso e questo mi fa piacere perché vedete quanti sarebbero i posti e quante sono le posizioni che le donne potrebbero ricoprire grazie grazie ad entrambi grazie a Piero Schiavazzi vaticanista per l'IMES dell'Huffington Post grazie a Don Gaetano Saracino della parrocchia Santissimo Redentore di Roma avremo modo di confrontarci anche perché entriamo in un periodo davvero caldo la Santa Pasqua è alle porte il conclave non ne parliamo dunque buon lavoro anche a tutti e due ci fermiamo solo a pochi istanti poi sarà di nuovo 56 live grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti